Il favolacce è un film che ci racconta una storia e alla fine della visione di questo film ci si pongono tantissime domande. Quale vorreste che fosse la domanda che rimane di più nello spettatore alla fine del film? Era una domanda molto bella, molto aputa. Io domande no, io vorrei che si aggranellasse dentro di sé i giusti limiti per potersi guardare attorno e poter ascoltare meglio quello che il cervello gli dice. Perché spesso crescendo si tende a fare un po' zero a zero con la vita. Quel senso di ferocia che hai nei primi anni della tua vita tendono a essere un po' smorzati perché altrimenti probabilmente nessuno di noi si fa sopravvivere in questo mondo. Però se ci penso è estremamente deludente come risposta. Sicché io a me credo che le persone tornano a casa, o mai, anzi no, vedendosela a casa perché come vera, lo posso stringere, ecco, stregandosi sul letto, posso solo rimettere in discussione anche dei sensi della tua vita più vulnerabili, più teneri, meno virili o tra virgolette comodi. Sicché spero tanto che si possa avere a che fare con la dolcezza. È vero, è un magone questo, giustamente, però è un magone anche che ha a che fare con, appunto, con la mancanza di dolcezza. E quindi magari tra me questo magone uno può cercare di riscoprirlo, quantomeno di tornare a metterla come possibilità, ecco, di essere un po' più tenere nella vita, di avere un ascolto, di avere una propria poetica, ecco, lontana dalle mode o dagli stereotipi. Sempre più sbagliati, tra l'altro, e per gusti. Ecco, la realtà di questo film è un piccolo centro, anche se fa parte di una grande città, e di solito in questi piccoli centri, come nel vostro film, la scansione del tempo è una cosa che va a sì, è come un microcosmo. Voi avete raccontato questo universo perché lo conoscete oppure perché lo avete immaginato? No, noi siamo andati in periferia, ma poi siamo spostati nel litorale romano, quindi abbiamo fatto Anzio, Laviglio, Nettuno, Turbaglianica, sono posti che è mancato. Io penso che la provincia abbia una gravità diversa proprio, quello che si rispira in provincia è differente perché ci sono ovviamente i ritaggi della città che sono tutti lì e sono emblematici e sono immarcabili. Quindi quel profumo della città, spesso i vizi della città sono presenti, ma c'è un clima più pantofolaro, più sonolento, più annunchilente. E quindi ci piaceva in qualche modo fare un film così turbolento e tormentato in un'atmosfera molto rarefatta, molto anche soleggiata e anche un po' ipnotica, con una pigrizia ipnotica. Questo apparente non accadere nulla, in realtà poi accade tutto e ci sono tutti i semi di quello che accadrà. Però ci piace appunto, visto che essendo una storia molto pura, l'accoppiata con la periferia e con questi palazzi in grigi, ci sarebbe sembrare una rima un po' stucchevole. Invece no, nulla, ma appunto un contesto insospettabile, un contesto appunto di giardinieri, di questi piccoli stecchiati, no? Questa immaginare un po' da Mickey Mouse, da Billy Brown e poi metterci dentro questi personaggi. Di solito nelle favole c'è sempre un eroe, quindi vi chiedo qual è l'eroe di favolacce di questo film e di questo racconto? Beh, sì, ma gli eroi ci sono e sono tutti i bambini. Penso che i bambini sono gli unici che scelgono di scendere da questo palcoscenico che hanno imbastito i genitori, no? In cui appunto si recita, si recita di essere padre, si recita di essere madre, sono dei stilemi che non esistono, che sono obsoleti, che sono caricaturali, che appartengono a un pubblico da televisione. Cioè tutto quello che ha creato è il bellosconismo negli ultimi vent'anni e sarà appunto quello di figure retoriche piuttosto che persone in carne e tosta con sangue caldo e con una reale comunicazione. E quindi i bambini hanno qualcosa di eroico nel scegliere di fare quello che fanno. La loro non è una sconfitta, la loro è una riapprovazione di un qualcosa che sentono di meditarsi, ovvero la libertà di scegliere.